In questa puntata di Avanti Insieme affronteremo un tema importante, come semplificare la vita dei pescatori consentendo di prenotare permessi e libretti di pesca direttamente online. Ma andiamo a conoscere gli ospiti di oggi. Bene, benvenuti quindi a questa nuova puntata di Avanti Insieme. Siamo con Claudio Nolli del Consiglio federale FIPSAS, responsabile del tesseramento e dell'organizzazione territoriale. Ciao Claudio e con Francesco Biacchi, responsabile del progetto GeoTicket. Ciao Francesco, buongiorno. È proprio del progetto GeoTicket parleremo in questa puntata, un progetto molto interessante che consente e consentirà sempre di più la possibilità di registrare dei permessi di pesca online in maniera semplice, sfruttando una serie di potenzialità appunto di questo progetto del quale parleremo. Ma innanzitutto, Claudio, l'impegno della federazione nel cercare di migliorare, semplificare e creare le condizioni per una gestione sempre più ottimale delle potenzialità legate al settore della pesca sportiva. Sì, le parole chiavi sono proprio quelle di semplificare e di magari anche abbattere un po' dei costi che sono un classico poi della burocrazia. Ma un altro aspetto fondamentale direi che è anche l'immediatezza del servizio che può anche funzionare in onari non consono certo ad uffici o comunque strutture pubbliche o parapubbliche. Ecco, direi che questo è uno sforzo che noi dobbiamo assolutamente assolvere per cercare di fare dei passi avanti che sono verso la semplificazione in termini concreti e generali. Ora torneremo a parlare dell'impegno della federazione su questo fronte, però prima di tutto cerchiamo di entrare nel dettaglio di quello che è il progetto GeoTicket. Allora, come nasce, quelle che ne sono le caratteristiche e nel frattempo vedremo in sovraimpressione alcune immagini anche del portale. Esatto, intanto il progetto GeoTicket nasce, come hanno anticipato giustamente, per semplificare la vita del pescatore, in quanto ogni singolo territorio presenta modalità, costi e sistemi differenti per l'acquisto del permesso di pesca e l'uso del libretto segna catture. Noi nasciamo per semplificare tutta questa modalità, tutto questo processo con un sito unico, un'app unica in tutta Italia, con l'obiettivo di offrire al pescatore il suo permesso in meno di un minuto e la possibilità di scegliere in tempo reale l'area di pesca in cui si vuole andare a pescare. Questo è molto importante perché, come tutti noi sappiamo, ogni singola area presenta appunto costi e modalità di acquisto differenti. Ora invece con un'app unica avvia la possibilità in tutta Italia di fare il permesso con un click e di conseguenza l'adesione è stata molto alta. Siamo molto contenti di vedere quante associazioni e di come la federazione hanno risposto alla nostra iniziativa e anche come i pescatori sono molto ben coinvolti nell'iniziativa e nel lanciare il progetto. Quindi sostanzialmente il progetto consiste in una sorta di digitalizzazione del permesso di pesca e anche dei pesserini segna catture che molto spesso con la dimensione cartacea sono un po' noiosi nel reperimento e a volte anche come dire nell'arrivare a fare il permesso perché bisogna andare in un luogo preciso. Con questo nuovo modo diciamo di operare si eliminano le distanze e si semplifica. Esattamente di fatti una delle prime problematiche per il pescatore, specialmente quando non conosci il territorio, è capire dove fare il permesso e come fare il permesso. Inoltre spesso l'attività ricettiva per fare questo permesso è chiusa, immaginiamo un bar, immaginiamo un comune o una posta dove chiaramente se è chiusa non dà la possibilità al pescatore di ottemperare l'acquisto e di conseguenza può rovinare la giornata di pesca. Invece con un servizio che comunque rimane attivo 24 ore al giorno, sempre disponibile e oltretutto permette anche un'assistenza perché qualora il pescatore abbia problematiche o non possa fare il permesso anche con Geoticket, noi abbiamo un'assistenza sempre attiva, diamo a tutti la possibilità di pescare sempre semplicemente in sicurezza. Quindi questo è molto importante. In questo momento sono dieci le regioni diciamo che sono comprese in questo progetto. Sono poche insomma perché non è da tanto che è iniziata la collaborazione con FIPS, però ci sono anche qui grandi potenzialità cioè di un'estensione anche maggiore per rendere ancora più ampio lo spettro di operatività. Sicuramente il fatto che il progetto si estenda rende chiaramente l'economia di scala estremamente vantaggiosa e oltretutto continua sempre più a facilitare l'attività del pescatore. L'ambizione della federazione, sebbene gli accordi con le regioni spesso non si riescono a concretizzare per una serie di aspetti legati all'evoluzione che ha la pesca tra provinciale, regionale, leggi locali e cose di questo genere, però possiamo incominciare a ragionare in termini di bacini, in termini di acqua, in termini di comprensori idrici o di corpi idrici anche semplicemente e su questo aumenteremo lo sforzo per dare la massima visibilità al pescatore di quali sono le opportunità pronti a sfruttare quella che oggi per il pescatore è un fenomeno di migrazione turistica di grande concretezza. Quindi è un progetto che va visto non semplicemente per il rilascio del tesserino, segnacature o del permesso, ma in prospettiva con una visione a medio termino. Questo perché, e noi non ci stanchiamo mai di ricordarlo, la pesca sportiva è un importantissimo volano di marketing territoriale e questo progetto che consente di sfruttare appunto una serie di acque sulle quali si può effettuare il permesso in maniera molto semplice agevolano e potenziano in termini appunto di crescita economico-sociale la possibilità di mobilità in un territorio, perché la pesca non è solo divertimento, è anche economia e noi non ci scordiamo mai di questo. Assolutamente, noi vogliamo che tutto il sistema si integri in quello che noi chiamiamo la filiera economica della pesca sportiva, laddove per filiera intendiamo non semplicemente il permesso del negozio di pesca che meritano tutta la nostra attenzione, il nostro rispetto, però intendiamo anche le strutture alberghiere, B&B, sistemi di ristoro, ristorante e perché no anche centri culturali che vanno dai musei, ma anche alle semplici, tra virgolette semplici, sagre che secondo me sono delle opportunità che di solito si sviluppano la sera di divertimento per il pescatore e i suoi accompagnatori. Francesco, in questa piattaforma sono già 275 gli spot di pesca rispetto ai quali si può prenotare il permesso. chiaramente sono destinati a crescere. Spieghiamo al pescatore e glielo facciamo anche vedere sulla piattaforma esattamente come si fa, che cosa si deve fare quando si accede e quali ne sono appunto le caratteristiche di così proprio grande semplicità. Esattamente, diciamo che il procedimento è studiato per essere molto pratico e molto semplice. basta accedere al sito o all'applicazione di GeoTicket, scegliere l'attività che si vuole andare a fare, quindi ci saranno varie possibilità, oltre alla pesca abbiamo anche raccolta funghi, caccia, tartuffi e quant'altro, scegliere la regione in cui si vuole praticare questa attività. Una volta scelta da regione compariranno in modo molto facile tutte quante le aree al momento disponibili per la pesca in quel territorio. Conseguentemente si sceglie il tipo di permesso, si sceglie la validità, quindi se parliamo di un mensile sceglieremo il mese, di un giornadiero sceglieremo il giorno e si acquista il permesso. Una volta comprato il permesso, diciamo che gioco è fatto, ovvero il pescatore può subito andare nel suo spot di pesca e cominciare la sua giornata. In abbinamento al permesso c'è il permesso segna catture digitale, ovvero la parte di app dedicata a semplificare ulteriormente la vita del pescatore nella segna della cattura. Quindi aprendo l'app e selezionando il permesso relativo, io potrò segnare la mia cattura comodamente e direttamente con un click. Questa cosa, attenzione, funziona anche offline perché chiaramente ci sono molti spot di pesca dove io ho difficoltà a prendere rete. Così facendo do modo al pescatore di essere completamente in regola anche dove non prende la rete e di far vedere chiaramente a livello di analisi statistica le mie catture una volta tornato, diciamo, dove la rete telefonica funziona. Come giustamente aggiungerate prima, l'aspetto turistico è molto importante in quanto Geoticket permette nel momento in cui si sceglie un territorio di visualizzare tutta l'offerta commerciale, quindi parliamo di alberghi, negozi di pesca e quant'altro, presenti sul territorio. Quindi non solamente premesse di pesca e segna catture, ma anche un risvolto economico per il territorio che spesso è una valle svantaggiata, è posizionata in montagna, che sicuramente va a zevolare tutto quel circuito economico che gira intorno alla pesca. E in un periodo come quello che stiamo attraversando, di pandemia e di difficoltà economiche, acquista ancora più importanza il fatto di poter valorizzare l'attività anche di molte aree interne, perché tanti spot di pesca sono collocati in delle aree interne del paese, quindi naturalmente anche più in difficoltà di carattere economico. e sulla pesca, la valorizzazione della pesca sportiva, attraverso anche questo strumento, ripartire in termini anche di crescita. Insomma, la federazione è veramente al passo rispetto alle innovazioni tecnologiche e così come abbiamo visto anche in un'altra occasione, quando abbiamo affrontato le miriade di opportunità che il sito, il portale ufficiale della federazione mette a disposizione, anche con questo nuovo passo ci proiettiamo nel futuro, con l'obiettivo di far crescere sempre di più i servizi, ma anche proprio il senso di omnicomprensività che la federazione dà ai pescatori italiani. Sì, ha uno sforzo sicuramente non indifferente, vuole, ha come obiettivo quello di comunque mantenere una passione della pesca molto attiva, vogliamo anche crescere dal punto di vista delle opportunità, perché in questo momento ci sono molte più opportunità per portare anche i ragazzi a pescare, a coinvolgerli non solo per la pesca in vista come tale, ma anche come fruibilità dell'ambiente, sul quale chiaramente noi vogliamo assolutamente incidere in senso positivo. Quindi il coinvolgimento è un fattore determinante. Però non nascondiamoci anche le mire di fidelizzazione e di senso d'appartenenza che vogliamo comunque che ogni pescatore abbia, che si senta tutelato, difeso e perché no anche servito da una federazione che pensa sistematicamente alla sua attività e alla sua pescione. Sì, perché cresce la qualità dei servizi, il numero dei servizi che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque può fornire e quindi questo è un invito anche a tutti i pescatori che ci stanno seguendo a valutare anche l'opportunità di iscriversi, di entrare a far parte di una grande comunità che aiuta non solo a incanalarsi in un percorso di tipo agonistico perché l'attività del coni è principalmente di carattere agonistico, ma negli ultimi anni ha anche e soprattutto di vicinanza al pescatore in generale, a quello ricreativo, al pescatore amatoriale e questo progetto lo dimostra. Claudio, la collaborazione, insomma la partnership con questo progetto Geoticket che però può essere vissuto anche come l'inizio di un percorso che può anche estendersi oltre la pesca sportiva perché la federazione si occupa anche di altre attività. Assolutamente sì, questo è un progetto che ha una finalità nell'immediato perché siamo operativi quindi si può già fare dei permessi, quindi si possono già acquisire dei libretti di segna cattura ma risponde anche a una visione futura che non è solo fortemente relegata alla pesca ma ci sono delle altre attività che stiamo pensando di agganciare a questo sistema di Geoticket. La validità del fatto che le competenze sono separate, nel senso che noi sappiamo dove vogliamo andare come federazione, quali sono i servizi eccetera e abbiamo delegato la parte tecnica a un'entità esterna come Geoticket che ci aiuta a svilupparle meglio mantenendosi al passo con la tecnologia e con i servizi. Ecco che questo ci fa subito pensare a quali possono essere gli sviluppi non soltanto settoriali per dire che non è solo la pesca ma esiste anche un'attività subacqua in federazione che potrebbe fruire di questo servizio ma anche dal punto di vista della semplicità e della fruibilità del sistema quindi il progetto non è che il punto di partenza questo, poi ci sono delle altre iniziative come ovviamente quella marketing dove agevoleremo talmente tanto il sistema da rendere anche sempre meno oneroso il servizio. Bene, con questa ultima considerazione di Claudio Nolli si chiude questa puntata di Avanti Insieme. Quello che facciamo è invitarvi a collegarvi al sito, al portale Geoticket www.geoticket.it Per il resto continueremo a parlare di questi e di tanti altri temi in questo spazio di approfondimento congiunto FIPSAS-FIOPS in onda su Italian Fishing TV. Come sempre, Avanti Insieme!